La milce è stata innescata a metà pomeriggio da una nota della segretaria generale della funzione pubblica della CGL Marta Casarin. La sanità trevigiana si è presentata in preparata alla quarta ondata, la denuncia messa nero su bianco. Per Casarin mancherebbe ancora un funzionale piano pandemico della sanità, in particolare per le strutture ospedaliere. Qui, dice la sindacalista, la situazione critica parlando di caos e personale ridotto allo stremo, prestazioni sanitarie annullate e turni lavorativi che si dilatano. Su tutte l'accusa che le assunzioni non hanno coperto le cessazioni ed è su questo punto che il direttore generale Benazzi risponde a stretto giro di posta. Quando si dicono le bugie queste hanno sempre le gambe corte. Allora nel 2021 i cessati sono stati 302, cioè le persone che sono andate via dall'Ulss in pensionamento per altri motivi compreso il decreto legislativo 44. Gli assunti sono stati 400, quindi cessati 302 infermieri assunti 400 infermieri. Tra gli os, dice sempre Benazzi, i cessati sono stati 104, gli assunti 167. Il problema, semmai, è un altro e sta a monte. Abbiamo fatto concorsi, lo sa benissimo la CGL, abbiamo fatto avvisi a tempo determinato per, chiaramente, come tutti sappiamo, ci sono difficoltà a reperire il personale, anche perché anche i centri servizi hanno i medesimi problemi nostri come il privato accreditato. Viviamo in un momento in cui oltre ad essere in fase 4 per l'emergenza Covid, comunque abbiamo anche tutti gli altri pazienti che accedono al pronto soccorso, cosa che non era successo nelle fasi precedenti. Noi ci stiamo riorganizzando, cioè ci stiamo riorganizzando perché noi dobbiamo garantire l'assistenza, quindi dobbiamo garantire l'assistenza ai malati Covid e agli altri malati e dobbiamo anche garantire la campagna vaccinale, i punti tampone eccetera. Una polemica infuocata che arriva nel giorno in cui la marca supera ancora una volta i mille casi di positività nelle 24 ore, 700 le classi in quarantena, record regionale. Quello che è importante, che ringrazio, è che il nostro personale sta facendo anche ore straordinarie, di queste molte pagate grazie alla Regione Veneto che ci ha dato la possibilità di pagare a libera professione aziendale, ma comunque questi sacrifici li stanno facendo perché sanno che stanno curando persone e quindi per il bene di persone stanno facendo questo, per cui credo che le sterili polemiche non servono a nessuno. Grazie.